Benvenuti su MyQuizTime! Trova l'emoji diversa in soli 7 secondi. Qual è l'emoji differente? Trova l'intruso. Trova l'intruso. Qual è l'emoji differente? 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 Trova l'intruso. Scrivi nei commenti quante emoji diversi hai trovato. E se il video ti è piaciuto faccelo sapere con un like. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi giochi. Grazie per aver giocato con noi. Alla prossima sfida!